La notizia arrivata nella tarda serata di sabato 21 settembre ha lasciato senza parole il pubblico televisivo italiano, ma anche gli addetti ai lavori che tanto apprezzavano Paola Marella. Per le sue capacità comunicative, per il successo raggiunto in modo brillante e convincente, per i suoi look colorati e la sua innegabile classe. Poche ore dopo il suo addio, gli italiani hanno potuto rendersi conto dell'ultimo video pubblicato da Paola Marella sul suo profilo Instagram notando il suo immancabile sorriso nonostante la durezza della battaglia che stava affrontando, la malattia che la stava costringendo a sforzi che sono facilmente immaginabili. Morte di Paola Marella, l'ultimo suo video ha colpito i suoi fan, quanta dignità! Abito di cotone, soprabito impermeabile e pashmina che non può mai mancare, così è apparsa Paola nel suo ultimo video pubblicato ormai 5 giorni fa. Tempo ballerino. Il sole ancora caldo si alterna all'aria decisamente più frizzante, ed è proprio questa la stagione in cui si fa fatica a capire cosa indossare, ha scritto nella descrizione del video, in cui si veste per l'autunno, iniziato proprio oggi, 22 settembre. Poi le parole che nascondono un po' di tristezza nel non detto, per me è giunta l'ora di tirar fuori le mie calde e coloratissime pashmin. Mi proteggono la gola, da sempre uno dei miei punti deboli, ma rendono anche unico e più personale ogni look. L'impermeabile, spolverino, mi fa già pensare all'autunno che sta arrivando, e a come il tempo sembra volare via sempre troppo velocemente. Ma ora assaporiamo ogni istante di questi ultimi giorni d'estate. E buona giornata a tutti, così si conclude il testo del post. Enorme la partecipazione dei suoi follower, manifestando il loro dispiacere alla notizia della sua morte. Ma com'è possibile? Questo video è di appena quattro giorni fa, scrive una follower sorpresa dalla notizia, giacché nel video non appare sofferente. Quanta dignità nel non far trapelare un briciolo dell'immenso sofferenza che stava provando. Elegante fino alla fine. Buon viaggio cara Paola, scrive un'altra utente proprio sottolineando la sua capacità di mostrare il sole, anche quando la notte si stava avvicinando inesorabile. I commenti del suo pubblico su Instagram sono tutti di saluto, di stupore ma sono in tantissimi a evidenziare questo aspetto notato nel video, il suo desiderio di mostrarsi come si è sempre mostrata, oscurando il male che l'affliggeva. Addio Paola!